Allora comincio da te innanzitutto. Ciao, io sono Didi Talebano Friulano e tu sei? Io sono Frabo, Riccardo. Il vostro gruppo è? The Tunas. E che genere di musica fate? Rock'n'roll. Rock'n'roll, anni 60? Partendo da lì e poi ci arriva fino al 2010, perché gli ultimi due anni ce li siamo persi per strada. Bene, senti un po', da dove arrivate? Io da qua dietro, però il gruppo da Bologna. Siete tutti e quattro siete, no? Sì. Bolognesi. Cordenons. Bolognese di Cordenons. Sì, esatto. E dopo tu? Io sono di Pianoro. Vicino a Bologna, provincia di Bologna. Ah, ho capito. E dopo ci sei tu? Puglia. Puglia, ma proprio bolognesi doc tutti e quattro. Io sono di Castenasno. Allora, rispettivamente tu cosa suoni? Chitarra e voce. E ti chiami? Riccardo, detto Frabo. Bene. Chitarra e voce. Chitarra, anch'io, Davide. Batteria e voce, Davide. Passo, non voce, Lorenzo. Questa sera che cos'è che ci proponete come pezzi? Su roba vostra o delle cover, in poche parole? Fondamentalmente dei pezzi nostri. Però, boh, imparciamo il tutto con... Qualcos'altro. Anche con altri pezzi. Sì, no. Fondamentale sono pezzi nostri. Poi... Qualche coverina ce la mettiamo. Per me, no. Qualche pezzetto. Bene, ragazzi. Allora, vi ringrazio. Ci sentiamo dentro. Che beccherebbe. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.